Da Gela a Palermo per chiedere un porto fruibile, incontri, tavole rotonde, riunioni tecniche, si è tanto parlato e ancora se ne parla, ma si conclude poco. E tutto, al momento attuale, è fermo, nonostante la firma sull'accordo attuativo di intervento attenente alla riqualificazione della portualità gelese con il ripristino funzionale ed il potenziamento del porto rifugio. Ma cosa prevede l'accordo? Gli interventi strutturali e definitivi di riqualifica della struttura portuale saranno realizzati dalla protezione civile indicata dalla Regione quale soggetto attuatore e beneficiario del contributo. Il costo stimato per la realizzazione delle opere è di 5 milioni e 880 mila euro. L'accordo attuativo, siglato il 27 settembre scorso dalla Regione Sicilia, dal Comune di Gela, dal Dipartimento regionale della protezione civile e da Eni, e il cui progetto esecutivo è predisposto dal Dipartimento regionale della protezione civile, prevede come principali attività il dragaggio dei fondali ad una profondità minima di 4 metri sotto il livello del mare e con la movimentazione di circa 205 mila metri cubi di sedimenti, un intervento di regolarizzazione della spiaggia adiacente al porto rifugio con piantumazione di assenze arboree e un intervento di protezione dell'aria attraverso l'ampliamento ed il rafforzamento del pontile di Ponente per una lunghezza di circa 120 metri. Prima di procedere con le attività di dragaggio sarà effettuata una caratterizzazione del sito che ancora, come dicevamo, non è avvenuta. Oltre al potenziamento del porto rifugio, l'accordo prevede anche la realizzazione di uno studio sul sistema portuale gelese. L'analisi ha come obiettivo di mettere in evidenza l'attuale stato delle infrastrutture e di possibili interventi di riqualificazione e potenziamento volte a garantire il ruolo strategico del porto industriale di Gela all'interno del nuovo piano regionale dei trasporti. L'intesa, firmata a settembre, rientra nell'ambito del contributo economico di 32 milioni di euro previsto dal protocollo del 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione di interventi per lo sviluppo sostenibile e di riqualificazione urbana e culturale della città di Gela. Grazie a tutti.